Giulia Galliani, Gal Project, Claudio Cuseri, Special Trio e Ruben Ciaviano, The Latin Side of Violin, sono gli artisti pronti a caratterizzare la nona edizione di Experimenta, la manifestazione dedicata al jazz in programma i mercoledì 7, 14 e 21 di agosto, a ingresso gratuito per una kermess ideata e organizzata dal comune di San Giustino, insieme a Gal Alta Umbria e sotto la direzione artistica di Marco Sarti. Siamo riusciti a mettere insieme tre dati interessanti con tre produzioni originali, quindi aspettiamo a questo punto il pubblico, gli artisti sono abbastanza conosciuti, abbiamo qualche nome internazionale, quindi poi sono veramente contento di ospitare un cervello in fuga che Marco Marconi, che è pianista della Zavalle del Zevere, è partito per l'Avventura dell'Inghilterra dieci anni fa e adesso è diventato uno dei pianisti più importanti di Londra, quindi sarà un'occasione particolare. I concerti sono stati sempre gratuiti da quando è stata inventata la manifestazione, in più il giorno è anche molto particolare perché è un mercoledì. Già dal primo o secondo anno la gente era incuriosita, è sempre venuta, l'atmosfera della villa è molto bella, quindi si sta molto bene, è diventata una specie di community del festival, da chi viene sempre agli appuntamenti. Location d'eccezione è l'incantevole scenario di Villa Margherini Graziani di San Giustino per un'interconnessione tra comuni delle vallate sempre più rilevante per l'organizzazione di eventi. Ho voluto portare avanti questo importante progetto, esperimenta che oramai identifica un po' la nostra estate san giustinese, ma soprattutto anche ci contraddistingue in questi rapporti di vallata che intendiamo portare avanti con i comuni limitrofi e soprattutto con il sindaco del comune di Montone, che è appunto presidente del GAL, questa mattina ha voluto rinnovare questa nostra importante collaborazione e connubio non soltanto per l'estate di quest'anno ma anche per il futuro. Centrale il contributo di Polietro Cultura, oltre che del GAL, Alta Umbria con importanti novità in arrivo per i comuni in previsione della programmazione 2025. Siamo pronti, penso a fine anno, i primi mesi del prossimo anno, a mettere fuori dei nuovi bandi interessanti per i comuni. Fino adesso abbiamo fatto la promozione degli eventi, anche quest'anno circa 30 manifestazioni in Alta Umbria. È importante però per i comuni, penso che sia importante, se uno finanzia l'intera manifestazione, non soltanto la promozione. Questi bandi nuovi per i comuni sono interessanti perché possono scegliere loro quello che fare, cioè una manifestazione oppure finanziare dei lavori. Quindi questa è la novetà, i bandi GAL non si limiteranno solo agli enti pubblici, ma voglio ricordare che ci saranno bandi per le attività commerciali, per le attività artigianali, per l'agricoltura, anche per le start-up. E poi comunque il GAL andrà anche alle fiere, come l'Artigiani in Fiera, con la Regione e con gli altri GAL e con l'Asso GAL.